ciao ragazze e ciao ragazzi e benvenuti in un altro video questo sarà un riassunto un mettere insieme tutti quei prodotti che mi sono particolarmente piaciuti nel mese di ottobre devo dirvi la verità non sono tantissimi perché nell'ultimo periodo non ho avuto ecco non ho avuto una vita mondana ecco però ho avuto occasione di provare questi prodotti più volte proprio perché non avevo esigenze particolari di trucchi molto particolari per trucchi molto estrosi complessi per cui ho usato sempre questi che vi farò vedere e mi sono piaciuti molto mi sono trovata particolarmente bene credo che siano quei prodotti che dovrebbero trovarsi in tutti i beauty case di noi ragazze di due donne perché ci permettono di fare praticamente quasi tutti i trucchi e voglio iniziare da un prodotto che non è un prodotto di trucco ma è uno strumento per il trucco ovvero un pennello questo è un acquisto recente quindi l'ho fatto appunto nel periodo di ottobre e praticamente l'ho utilizzato all'infinito l'ho utilizzato sia su di me che per lavorare e trovo che questo pennello sia eccezionale sto parlando del di un pennello di sephora qui sulla parte alta del del pennello indica il numero 56 ed è il pro flawless airbrush quindi un fondotinta che nasce per una stesura molto leggera del fondotinta dunque io sinceramente per il fondotinta lo trovo un po difficile da utilizzare perché da come potete vedere è un pennello abbastanza abbastanza piccolo però lo trovo eccezionale per il contouring con le paste quindi il contouring con con le creme quello che era mai sul web tutte fanno e non tutte fanno non tutte vanno bene diciamo che è un classico contouring correttivo ed è il contouring fotografico cioè quello che dovrebbe aiutare il viso a risaltare anche quando viene investito da fonti di luci fonti di luce fortissimi come appunto è il flash nella fotografia e questo questo pennello è appunto ideale per fare questo genere di lavoro quindi andare a scolpire questa zona del dello zigomo perché ha una punta aiuto una punta piatta e stretta quindi potete andare a scolpire però ruotato e utilizzato di piatto questa zona potete andare a sfumare verso l'alto quindi non è solo utile per le creme ma dopo aver appunto utilizzato una crema potete pulirlo leggermente passarlo nella polvere in questo caso nel nel bronzer e andare a definire maggiormente la zona d'ombra inoltre è ottimo per andare a stendere in questa zona il correttore e andare quindi a portare il prodotto verso la parte bassa per creare questo triangolo luminoso che aiuta tantissimo a rendere lo sguardo molto più vivo accattivante e andare a correggere maggiormente la borsa per cui questo pennello è consigliatissimo l'ho usato appunto tantissimo soprattutto per lavorare e per lavorare mi ha dato tantissime soddisfazioni proprio perché l'ho trovato perfetto per tutti per tutte le forme di viso rimanendo nell'ambito delle paste fondotinta correttori non posso non menzionare il correttore che mi sta piacendo tantissimo in questo periodo in realtà l'ho già da parecchio tempo l'ho usato soprattutto per lavorare e nell'ultimo periodo ho iniziato ad usarlo anche su di me e sto parlando del mac prolong wear concealer quindi il correttore ad alta tenuta di mac quello che utilizzo io è nella colorazione nc 30 quindi una colorazione non molto chiara anche se per essere un nc 30 rimane comunque abbastanza chiaro quindi potete anche utilizzarlo per andare a fare il contouring quindi andare a fare i chiari si stende benissimo corregge molto bene le discromie della zona perioculare vi aiuta a mimetizzare bene la borsa questo correttore è veramente fantastico si fissa bene anche se ovviamente si consiglia sempre l'utilizzo di una polvere per andare a correggere c'è per andare a correggere per andare a fissare completamente il prodotto è veramente ottimo l'unica pecca di questo correttore ahimè è che ha la pompetta e la pompetta eroga sempre una quantità di prodotto assurda per cui molte volte si spreca per qui se siete come me che non volete sprecare il prodotto dopo aver dopo averlo utilizzato quindi intorno alla alle occhiaie per le occhiaie ne prendete un po è andati un po sul ponte del naso un po sullo zigomo un po sulla fronte e andate un poco ad illuminare il viso in modo tale che il prodotto appunto non venga perduto parlando di prodotti fissanti voglio farvi vedere questa cipria di wicon che è la fix and matte cipria trasparente quindi una classica cipria traslucida che mi sta piacendo veramente tanto il concetto il concept utilizziamo le parole inglesi che fanno sempre faiga è appunto quella della della cipria hd di makeup forever ovviamente a dividere questi due prodotti è il prezzo quella della makeup forever costa 30 euro 40 euro costa tantissimo e invece questa costa molto di meno mi pare 6 7 euro 8 euro non vorrei dire una sciocchezza la cipria hd di makeup forever è hd quindi a questa diciamo particolarità di avere una polvere che crea delle micro sfaccettature in percettibili all'occhio ma che dinanzi ad una camera ad una videocamera aiutano il viso a sembrare più bello più definito appunto rimane semplicemente una cipria traslucida c'è una cipria che non ha un colore ma prende il colore del fondotinta che voi avete utilizzato del correttore che avete tutti avete utilizzato e questa di wicon mi piace tanto perché è molto molto sottile molto in palpabile ma fissa veramente bene il le creme concentriamoci ora sul trucco degli occhi quindi su ciò che rende il nostro sguardo veri sexy veri veri sexy appunto sensuale sensuale e voglio iniziare a parlarvi di questa palettina della de balm che la mit matte nude ed è una palette che propone che ci propone una selezione di prodotti di ombretti completamente opachi abbiamo i colori più chiari i marroni che aiutano sempre nel trucco correttivo e poi un color talpa un grigio e un grigio intermedio ed un rosa un rosa carne un rosa antico questi ombretti sono veramente fantastici sono leggermente polverosi però mi permettono di fare dei trucchi stupendi soprattutto appunto se lavorate con con le spose dico ovviamente ci sarà qualcuna di voi che fa la truccatrice per cui se appunto siete truccatrici truccatori questa palette è fantastica per il trucco sposa perché appunto avete il bianco un color un color burro un marrone più chiaro un marrone più scuro il rosa quindi potete andare a creare una zona di correzione fantastica poi sono facilissimi da sfumare perché sono molto pigmentati per cui basta pochissimo prodotto sfumato bene per fare immediatamente dei trucchi di alto di alto livello rimanendo negli occhi nei negli occhi proprio dentro negli occhi rimanendo nell'ambito del trucco occhi voglio menzionarvi il mascara della wai con lo step by step che oramai è diventato il mio mascara preferito lo adoro mi crea delle ciglia perfette lunghissime incurvate nerissime veramente un mascara ottimo non voglio starci a spendere troppe parole perché già lo l'ho mostrato in un altro video che è quello della sfida della mascara e veramente è un ottimo è un ottimo mascara ve lo consiglio a priori cioè non per il mese di ottobre ve lo consiglio sempre sempre di wicon rimanendo nell'azienda wicon voglio menzionarvi le tinte labbra che stanno spopolando sul web tutti parlano di queste tinte labbra tinta di tutte queste tinte labbra c'è gente che se ne comprate 8 9 10 12 alcune sono diventate introvabili e anche a me sono piaciute particolarmente non tutti i colori sono allo stesso livello ad esempio i colori troppo troppo chiari per mio gusto non mi sono piaciuti e né tantomeno il colore più scuro diciamo il borgogna quello proprio color vino della collezione non mi è piaciuto perché praticamente sbocciandolo sulla mano mi sono subito resa conto che non era omogeneo quindi non dava una copertura omogenee quindi non ve lo consiglio tutti gli altri invece sono stupendi soprattutto la tinta lampone di cui ignoro anche il numero è scomparsa dal commercio ve le siete mangiate queste tinte però io ho la mia preferita che fortunatamente c'era ed è la numero 08 sangria che trovate anche utilizzata nel tutorial party glamour vi lascio il link qui qui cliccate cliccate anzi no finite prima il video poi cliccate che è stupenda veramente fa delle labbra da diva di hollywood potete con questa tipologia di prodotto andare a sbordare la vostra linea naturale delle labbra proprio perché essendo così opache non fanno quell'antiestetico bordino sbrilluccicoso tipico appunto di chi utilizza la matita per andare a riempire cioè per fare questo effetto riempitivo delle labbra e poi utilizza un rossettino di quelli molto cremosini o molto luccichini che vi fanno appunto vedere che avete esagerato con il perimetro e che quindi fa un effetto terribile una cosa che soprattutto negli anni 90 era non so se piacesse negli anni 90 ma era una cosa molto frequente ma a noi non ci piace perché ormai siamo diventate bravissime col makeup e questo vi permette quindi di andare ad esagerare un po col contorno labbra il colore è fantastico è un color vino non troppo rosso non troppo marrone una giusta via di mezzo che trovo bellissimo in questo periodo soprattutto con le carnagioni iper chiare e mi fa delle labbra stupende io le chiamo le labbra d'arriva di hollywood cioè quelle perfette quelle corpose completamente opache completamente perfette ecco con questo il prodotto in sé vi aiuta ma il colore è stupendo quindi ve lo consiglio super 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 consigliato poi e insieme a questa tinta vanno insieme ovviamente un altro prodotto wicon è la matita long lasting lasting long lasting lip liner in nella colorazione sienna numero 06 questo colore è fantastico l'ho utilizzata tantissimo cioè si vede che è stata temperata già 5 6 7 volte perché mi piace tantissimo il colore il colore è un rosso marrone caldo che si sposa benissimo con con questa tinta insieme potete conquistare il mondo davvero datemi una tinta labbra e una matita e vi conquisterò il mondo e insieme appunto riuscite ad avere queste labbra stupende stupende ma come parlo stupente stupente ma vabbè ragazze oggi non ci siamo delle labbra magnifiche super voluminose super carnose sensuali eleganti fantastiche per cui se andate da wicon mi raccomando queste vanno insieme e sono veramente stupende e questo è tutto spero che questo video vi possa tornare utile mi dispiace di avervi potuto mostrare pochi prodotti ma appunto come si dice pochi ma buoni che sono stati veramente utilizzati e sperimentati una sperimentazione animale io sono la sarei l'animale su di me e anche su alcuni mie clienti devo dire la verità io spero di avervi aiutato di potervi aiutare nella vostra nel vostro acquisto appunto di questi prodotti io vi mando un bacione grande e vi aspetto sempre qui su make up mucs ciao ciao